Eccoci con Aurora Condorelli, ci avresti mai pensato un anno fa di trovarti qui? Assolutamente no, è stato uno dei miei sogni fare parte di questa squadra. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare qua e anche per questo sono molto emozionata, non solo per la partita ma anche perché non mi sarei mai immaginata di fare parte di questa squadra. Però adesso che ci sono sono molto felice e voglio dimostrare il più possibile che posso farne parte. Veniamo alla partita di oggi, esordio dal primo minuto, com'è stato questo parare i tiri dell'Israele? Sono stati non molti però è stato comunque difficile soprattutto nel primo tempo. Sì, difficile perché appunto c'è tanta emozione, emozione perché voglio dimostrare che sono all'altezza di poter giocare. Sono stati pochi però siamo state brave tutte quante in difesa. Grazie, grazie.